Dio ci vuole liberare dal peccato. Gesù ha detto che chi commette il peccato è schiavo del peccato. E Lui è venuto per liberarci da quella schiavità. Pensavo che Dio potesse fare determinate cose, ma dal momento in cui le ho viste, ho detto, mi sono veramente arresa e ho detto, veramente, c'è un Dio grande che può fare tutto ciò che vuole. Per mezzo della fede con la quale accettiamo il sacrificio di Gesù, Lui ci riammette nella casa e ci fa diventare non più estranei, ma figli di Dio. Per mezzo della fede con la quale accettiamo il sacrificio di Gesù.